Sono state depositate dal GUP Anna Marielo Prete lo scorso venerdì le motivazioni per la sentenza di assoluzione dall'accusa di ostacolo alla vigilanza per l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il dirigente David Canestri. Circa 200 le pagine in cui il GUP giustifica le assoluzioni, le copie sono state ricevute lo scorso martedì dal pool di magistrati guidati dal procuratore capo Roberto Rossi e dai legali dei tre imputati. Per il giudice dunque non ci fu dolo, gli imputati non tentarono di nascondere la reale situazione finanziaria dell'istituto di credito Aretino. Per quanto riguarda invece l'operazione Palazzo della Fonte per il GUP si è trattato di una vendita reale non fittizia, motivazioni che arrivano ad oltre 5 mesi di distanza dal 30 novembre, giorno in cui fu pronunciato il verdetto. Scattano adesso i termini per la presentazione dell'appello. La procura di Arezzo al momento starebbe studiando le motivazioni nell'ottica di ricorrere appunto in appello. Novità importante all'orizzonte anche per quanto riguarda la nuova banca Etruria. Potrebbe infatti arrivare mercoledì il closing, ossia il perfezionamento dell'operazione che porterà le tre good bank nate dalle ceneri di banca Etruria, banca Marche e carichieti sotto il definitivo controllo di Ubi che ha acquistato i tre istituti di credito al prezzo simbolico di un euro.